Non è proprio la rullata dei tamburi tipica, ma è vero bene. Allora, ricordiamo tutti i giornalisti che erano presenti, Paolo Termentini, Paola Pozzetti, Gianluca Felucci e Annalisa Sorbi. Grazie, ecco, è arrivata Annalisa, Gianluca Felucci, è dovuto scappare, sicuramente ha fatto il contributo. Gianluca Felucci In questa prima edizione del Paradise of Rock E, o sono, gli Aydro. Allora ragazzi, tutti davanti, la targa, ricordiamo che oltre al premio ritireranno gli Aydro anche un pacchetto di riviste, strumenti musicali, computer music e strumenti musicali di web stage, che sono stati gentilmente offerti. Quindi potranno anche stasera, magari prima di andare a dormire, una bella sfogliata vedranno quali sono le ultime novità del mondo della musica e dell'elettronica musicale. Ma chi sta offerta? Ah, ebbene, sostanzialmente, fanno notare che non è stato consegnato il premio. Era un dettaglio, era un dettaglio pure importante. Eccolo qua, un'altra chitarra. La amplifichiamo poi vediamo come va. Il terzo gruppo classificato che si aggiudica un buono del valore di 480 euro da spendere in corsi e attrezzatori musicali presso un gioia ancora. Allora, vediamo, si stanno preparando, ecco arriva il premio, arriva la targhetta. Il terzo gruppo classificato, sì, è un buono, l'ho già specificato, di 480 euro, sono stato preciso questa volta. Allora, il terzo gruppo classificato a questa prima edizione del Paradise of Rock, sono gli Highstone Brain. Complimenti, ragazzi. Complimenti. Ok, saluti di rito, foto di rito, tutto in posa. Io mi sposto un po' di lato perché ci sono anche un'altra persona, nel momento romano, l'obiettivo, c'era tutti. Ricordiamo anche per loro alcune riviste, strumenti musicali, computer music, project studio e backstage per essere aggiornati sulle ultime novità. Grazie mille. Grazie mille, Highstone Brain. Un applauso, ragazzi. Ai premi della giuria di qualità. La giuria di questa sera, lo ricordiamo, era composta da Emanuele Gardossi, Lorenzo Ortolani e David Lenci, che insomma hanno anche elargito qualche perla di saggezza da detti ai lavori. Io li ringrazio, sarei stato a parlare veramente fino a domattina di queste cose, perché insomma ci toccano tutti da vicino musicisti e appassionati di musica. Allora, abbiamo visto che i voti sono stati più o meno concordi, avevate un'idea abbastanza precisa. Volevo farvi una domanda così prima di consegnare i premi, se vi è piaciuta la proposta musicale, se vi sono piaciute le band, se avete qualche consiglio per i gruppi che hanno suonato o un consiglio da una dettata ai lavori, fa sempre copolo, insomma. Innanzitutto complimenti a tutta l'organizzazione per il bel contesto e le belle canzoni che avete sentito. Qui ci sta l'applauso, insomma. Per il band, come abbiamo detto prima, il consiglio è suonare, 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 suonare e suonare. Perfetto, grazie mille. Il consiglio. Naturalmente, tocca a tutti. Allora, innanzitutto concordo è suonare, suonare, suonare. Primo. Il secondo è suonare, non sempre insieme, ma anche basso batteria, chi dare basso, chi dare batteria, chi dare voce, magari aiuta. E non sentirsi mai bravi. Perfetto. E questo è un gruppo che già lo fa, però, secondo me, vabbè, il gruppo metal è un po' difficile, chiaramente. Però una canzone, secondo me, funziona quando chitta le voce... Giù. Già, c'è Giù. Chi l'ha detto? Io. Perfetto. Ok, grazie David. La prima edizione è un applauso, un po' di... Anzi, il vincolo. Il Silvio's Magic Handle. Buon'altra situazione, ragazzi. Grazie. Grazie. Buon'altra situazione, ragazzi. E il secondo premio naturalmente va al Via Tumato. Allora, allora, adesso consegna dei premi, quindi i gruppi qui davanti per le foto, la consegna della targa, la consegna della brochure, le riviste, insomma tutto quanto. Singles Magic Game. Allora, tutti in posto per le foto, direi. Tutti in posto, ragazzi. Congratulazioni, Singles Magic Game. Grazie mille, ragazzi. Devo mettere arrivato. Poco in diritto. Grazie mille, ragazzi. Sì, ma non credo che andare al resto... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.